45 anni e non sentirli. Noi tutti, o quasi, siamo testimoni, spettatori e attori di 45 anni di successi, ma anche di paure, di delusioni, incomprensioni. Eppure siamo qui perché ci crediamo, perché ogni singolo ricordo o aneddoto scolpisce l'importanza di essere famiglia. Perché famiglia ci hanno insegnato e trasmesso, i signori Polti, Teresa e Franco. Famiglia è ciò che ci trasmette oggi Francesca Polti e visto che l'obiettivo di questa festa è anche un'occasione per conoscerci, a voi giovani e nuovi colleghi, diciamo che famiglia è il nostro futuro. Insieme possiamo costruire e credere in un'azienda che a sua volta ci ha creduto ed è cresciuta proprio come famiglia. Famiglia, tuttosera, la città! Famiglia, tuttosera, la città! Famiglia, tuttosera, la città! E' difficile ammettere quando uno è felice perché la felicità spaventa perché pensi che sia un attimo. Io sono felice, anzi felicissima, posso dirlo? Ho raggiunto i risultati, li ho raggiunti anche facendo sacrifici. Certe volte controventissimo, mi è sembrato di essere, però non avrei mai potuto farlo se non avessi avuto la giusta squadra. Quindi, grazie. Il nostro non è un semplice grazie, il nostro è un augurio per un futuro proficuo e per un 45 moltiplicato per mille, la grande famiglia Ponti.